I mostri delle leggende che circolavano sono leggende marinare. Noi cerchiamo qualcosa di 20 metri, mai sentito. Si intitola Sea Devil del titolo del film che verrà interamente girato nella città della fortuna. Il lungometraggio per la regia di Giuliano Giacomelli prenderà vita dal 12 al 30 giugno quando la troupe girerà le scene del film al porto di Fano. In mare, i quadri del Lido, nelle spiagge libere dall'Arzilla Pesaro e in alcuni esercizi commerciali. Il protagonista della pellicola interpretato da Marco Marchese sarà Leonardo, un fotoreporter cinquantenne affetto da cancro al cervello che è ossessionato da un'antica leggenda marina sopravvissuta nei secoli e che ancora oggi suggestiona e spaventa molti pescatori locali. Leonardo darà la caccia a una manta gigante che nuota nelle acque di fronte alla città cercando di scoprire quanto ci sia di vero in questa leggenda sul mostro marino. La scelta di Fano è venuta in maniera piuttosto immediata. Io praticamente sono nato e cresciuto all'isola dell'Iri, che è un paesino in provincia di Frosinone, Ciociaria. Vivo a Roma, però in realtà le mie origini per metà, per buona parte, sono prettamente marchigiane, perché c'è mio padre che è originario di Sor Bolongo, una frazione vicino Sant'Ippolito, e quindi io da quando ero piccolissimo, avevo tipo 4-5 anni, le mie estati in realtà le passavo qui a Fano, venivamo in vacanza con tutta la famiglia a Fano, quindi in realtà Fano è un po' la mia città di base, quindi nel momento in cui mi sono trovato a cimentarmi con la mia prima regia di un lungometraggio, a firma singola, doveva essere Fano, ci tenevo, insomma, c'è questo legame che mi lega alla città, e speriamo che sia anche per me la città della fortuna. Il cast è quasi al completo, ma non sono concluse le selezioni per le comparse. Chi vuole candidarsi può inviare un video promozionale di 30 secondi tramite WhatsApp al 345 34 34 705. Quando una troupe che viene da fuori sceglie come location per un film, un lungometraggio, il primo di Giuliano Giacomelli, come ci ha raccontato a poc'anzi in conferenza stampa Fano, quindi con le sue spiagge, il suo porto, le sue comparse, anche qualche negozio, qualche situazione, e quindi ci ha assicurato il regista che sarà proprio Fano, non ci saranno dubbi, per noi è un motivo di grande orgoglio e interesse, vuol dire che questa città per antica storia, magari il regista stesso ci ha detto che veniva qui da piccolo, pur essendo nativo del Lazio, e quindi si intrecciano dei fili del ricordo, che poi si vede che è stato un ricordo bello della città, tanto da farne diventare il palcoscenico di una vicenda che si sposa un po' con il mito del mare, il fantasy e anche le tradizioni più serie della marineria, quindi penso che sia un bel racconto.